E' davvero emozionante ricevere la nomina di ambasciatore di una città importante come Bologna. Per me che sono napoletano, ho sempre trovato in comune con questa meravigliosa città la passione, la meritocrazia e la voglia di cercare di gettare sempre il cuore oltre l'ostacolo e in particolare la passione che mette nel cercare di fare sempre di più per il mondo delle scienze e della medicina del quale mi faccio promotore. Infatti siamo riusciti a portare nella città di Bologna l'International Association of Comparative Research on Leukemia Related Disease che è una società molto prestigiosa il cui evento si tiene ogni due anni ed è un evento che praticamente gira il mondo e da anni mancava in Italia. E' stata una società molto prestigiosa e storica nel campo dell'onco ematologia di cui mi occupo, una società che ha più di 30 anni e in particolare cerchiamo di fare il punto della situazione sulle terapie personalizzate in campo onco ematologico, la medicina di precisione e tutto quello che sta avvenendo in questo mondo, la rivoluzione che sta ponendo i nostri pazienti di fronte a nuovi scenari diagnostici e terapeutici con l'immunoterapia che sta prendendo sempre più piede e con la chemioterapia che stiamo dimenticando sempre più. Quindi verso nuove frontiere cerchiamo in questo evento con tantissimi ricercatori autorevoli di fama mondiale di fare il punto della situazione sul presente e futuro dell'onco ematologia.